Allora, buongiorno a tutti intanto, stiamo aspettando mia mano le persone che si colleghino e inizino a entrare nell'appuntamento. Io do il benvenuto a tutti al Digital Open Day del Master in Neuropsicologia Clinica. Io sono Francesca Pedrona di Unismart, la Fondazione dell'Università degli Studi di Padova e vi ringrazio per la vostra partecipazione all'Open Day che si tiene nell'ambito della Digital Open Week. Prima di dare la parola al direttore, il professor Priftis, vi fornisco delle velocissime comunicazioni di carattere logistico per la buona riuscita dell'Open Day. Allora, innanzitutto vi chiedo di tenere disattivato il microfono durante l'illustrazione dei relatori per dare appunto la possibilità di fare degli interventi completi, poi alla fine avrete comunque la possibilità di rispondere alle domande. Vi chiediamo magari se man mano che il professore, man mano che, se vi vengono in mente delle domande, man mano che il professor Priftis spiega, ve le appuntate in modo tale da poi porle alla fine dell'Open Day. L'Open Day è registrato, quindi alla fine, una volta che si chiuderà, nei prossimi giorni, tra domani e dopodomani, riusciremo a mettere a disposizione la registrazione all'interno del sito in modo tale che chi non è riuscito a partecipare o chi magari ha la necessità di sconnettersi prima può vedere la registrazione all'interno del sito. Io adesso do l'avvio all'Open Day, passo la parola al professor Priftis e vi auguro un buon ascolto. Ottimo, ringrazio moltissimo la dottoressa Pedron e ringrazio ovviamente moltissimo anche tutte le persone che sono collegate a questa presentazione del nostro master. Mi chiamo Costantino Priftis, sono un docente dell'Università di Padova presso il Dipartimento di Psicologia Generale. Mi occupo dell'insegnamento di materie neuropsicologiche e da due anni, questo sarebbe il terzo anno, in cui sono il direttore del master in neuropsicologia clinica, questo master del secondo livello, che esiste ormai da più di vent'anni, un master consolidato, che speriamo che continuerà ad esserlo e a farlo partire anche per l'anno prossimo. Allora, un attimo che non parte, eccoci qua. Allora, per una playa di motivi esiste un bisogno crescente, continuamente crescente, negli ultimi anni di persone esperte nella neuropsicologia clinica. La neuropsicologia clinica è quella branca della neuropsicologia che si occupa appunto della valutazione di agnesi da una parte e della riabilitazione delle tube, dei disordini, dei deficit neuropsicologici. I deficit neuropsicologici possono riguardare qualsiasi parte della sfera mentale, quella cognitiva o emotiva. Per esempio, possono essere disturbi della memoria, come l'amnesia, disturbi del linguaggio, come l'afasia, disturbi delle funzioni esecutive, che sono quelle su preme abilità che ci permettono di organizzare, pianificare, correggere, adattare le nostre attività quotidiane e così via. Allora, è vero che negli ultimi anni ci sono stati moltissimi progressi per la gestione delle malattie neurologiche, che sono le cause dei disturbi neuropsicologici. Quindi siamo, i colleghi medici riescono a far salvare più persone da un ictus, da un tumore e così via. Però queste persone possono rimanere con delle turbe residue, l'abito mentale, con particolare riferimento all'abito cognitivo, che devono essere prima diagnosticate correttamente e poi devono essere riabilitate correttamente. D'accordo? Un altro motivo è che abbiamo sempre persone più anziane, sempre più anziane, progressivamente più anziane, e sappiamo che purtroppo con il passare degli anni e la sopravvivenza che aumenta, aumenta anche la probabilità di dare incontro a un processo dementigeno. Questo fa sì purtroppo che le persone che hanno demenza si è moltiplicato e si moltiplicerà ultimamente negli anni a venire. Tutti questi motivi e molti altri hanno fatto sì che abbiamo bisogno di preparare neuropsicologi clinici sia da un punto di vista teorico e soprattutto da un punto di vista pratico, in modo tale che possano affrontare queste nuove sfide collocandosi in strutture come sono gli ospedali generali, le cliniche neurologiche, le strutture di neuro-riabilitazione, gli abugatori territoriali e altre strutture simili. Nel nostro master l'accesso è consentito solo a laureati in psicologia. Ritengo che, come ogni master di secondo livello, non è un corso per principianti. Non solo non è un corso per principianti, quindi richiede che le persone hanno già un bel bacaglio di nozioni di base consolidate, ma ritengo personalmente in qualità di direttore di questo master che nessun altro corso di laurea può offrire questo bacaglio di conoscenze. Quindi è stata una mia scelta personale di limitare l'accesso solo agli psicologi. Dall'altro canto, se la scuola di specializzazione in neuropsicologia è solo riservata agli psicologi, secondo la mia ottica personale anche il master in neuropsicologia devono essere riservati agli psicologi. Per accedere, si può accedere con le lauree di vecchio ordinamento in psicologia, sono quelli che ho fatto io per intendersi, tipo un secolo fa, cinque anni continui. Ma ci possono essere anche le lauree specialistiche o le lauree attuali, che sono le lauree magistrali. Allora, ci sono in totale 60 crediti. In termini di ore sono 300 ore di lezioni teoriche e pratiche e 500 ore di tirocinio da fare in un anno. Allora, la didattica, parto dalle lezioni, è strutturata così in una serie di moduli. Essendo un master in neuropsicologia clinica, il fuoco è appunto da una parte della valutazione e diagnosi, come si fa, quali sono le procedure, gli strumenti da usare, di che cosa stare attenti, come interpretare gli strumenti, anche da un punto di vista statistico e così via. E dall'altra parte il fuoco è nella riabilitazione. Va bene, abbiamo fatto la diagnosi, cosa possiamo fare per aiutare la persona a superare le proprie difficoltà? Quali sono le tecniche di riabilitazione della memoria, dell'iguazzo, delle funzioni esecutive, dell'attenzione spaziale e così via, più moderne e adeguate? Vedete qui sotto che c'è un modulo che noi lo chiamiamo modelli teorici in psicologia e neuropsicologia cognitiva. Il mio scopo e obiettivo è quello di fare come dovrebbe essere l'unico modo di fare la neuropsicologia come scienziati prima e allo stesso momento anche come clinici. Cosa vuol dire come scienziati? Se noi andiamo a fare la neuropsicologia come la farebbe chiunque che non ha più pallida idea alla quale diciamo ma secondo te questa persona dimentica le cose o cosa possiamo fare per aiutarlo e prendesse la settimana linguistica per farlo aiutare secondo me magari gli facciamo del bene però non lo facciamo della neuropsicologia non c'è bisogno di una laurea per questo e sicuramente non c'è bisogno di un master per questo. Poniamo l'enfasi senza però ignorare le differenze individuali o senza per questo diventare dei freddi robot che applicano teorie comunque partiamo da modelli teorici che derivano sia della psicologia cognitiva sia della neuropsicologia cognitiva ovviamente questi modelli teorici sono quelli che vengono insegnati nei corsi di laurea quindi noi li richiamiamo prevalentemente poi se uno non ha queste basi si fanno dei discorsi a parte non escludiamo nessuno casomai lo aiutiamo a colmare i vuoti le mancanze i deficit che può avere le proprie conoscenze però uno deve essere anche molto consapevole di quello che sta per cominciare ok quindi a partire dai vari modelli e dalle evidenze empiriche per esempio la riabilitazione cerchiamo di usare e di insegnare trattamenti riabilitativi che si basano sulle evidenze uno può avere anche settori in cui evidenze non ci sono basta ammetterlo quindi addestriamo le persone in modo tale che quanto ci sono limiti devono essere i primi a riconoscerli a riportarli allora particolare enfasi viene data anche a discipline mediche che sono di fondamentale importanza per il neuropsicologo noi come neuropsicologi clinici collaboriamo e interagiamo continuamente negli ospedali e strutture simili con colleghi medici che sono i neurologi i neurotirurghi i neuroradiologi e così via una parte importante del master è dedicata all'insegnamento di queste materie in modo tale che il neuropsicologo clinico da una parte acquisisse un linguaggio comune di interazione con i colleghi medici dall'altra parte capisse il messaggio e il contenuto dei referti medici di questo tipo qua ha lo scopo di inglobarli nel proprio lavoro per esempio sapere se c'è una lesione di che tipo e dove è potrebbe essere di aiuto per partorire le prime ipotesi diagnostiche è vero che l'ultima parola deve avere la nostra diagnosi la diagnosi neuropsicologica però questa diagnosi neuropsicologica a volte può essere aiutata dai referti per esempio del neurologo o del neuroradiologo appunto degli esperti di neurologia e neuroradiologia addirittura abbiamo un'esperta di una neuropsicologica esperta però nell'abito di lavoro nell'abito di neurochirurgia quindi tutti questi esperti fanno da ponte tra le conoscenze di un neuropsicologico clinico e le conoscenze di un collega medico può essere un neurochirurgo un neuroradiologo un neurologo c'è una parte dedicata anche alla psicofisiologia intesa come un insieme di tecniche di registrazione elettrofisiologica che vanno fatte in parallelo all'esplettamento di compiti mentali che possono essere di carattere emotivo cognitivo e così via allora è vero e voglio essere sincero la maggior parte del corso è dedicato ai disturbi acquisiti ovvero sia i disturbi neuropsicologici che consistono nella perdita di una funzione mentale in seguito a una malattia neurologica quindi io ricordo bene le cose e un ictus comincio a dimenticare io uso bene gli strumenti coditiani e gli oggetti dopo un tumore perdo la conoscenza dell'uso perdo una forchetta e la uso come se fosse un cacciavite d'accordo quindi ho avuto una funzione a un livello normale in seguito a una lesione cerebrale per dotare le funzioni questo definiamo come disturbo acquisito comunque una parte notevole non piccola notevole non nella maggioranza però una parte comunque notevole è dedicata anche ai disturbi neuropsicologici acquisiti purtroppo abbiamo tantissimi bambini le percentuali vanno da 5 a 10% dei bambini che non imparano mai o lo imparano male per ovviamente cause neurologiche però non conosciute a scrivere a leggere a orientarsi nello spazio a fare calcoli a ricordare le cose qualcuno anche a parlare e così via abbiamo accreditati studiosi esperti che vi orienteranno orienteranno scusate anche nell'abito dei disturbi neuropsicologici evolutivi come le dislessie le disgrafie e così via allora vi do alcuni esempi concreti di titoli di lezione ripeto che le lezioni hanno sia parti teoriche sia parti pratiche rappresentate da esercitazioni vere e proprie quindi ci può essere una esercitazione al senso non più di una siccome partiamo cominciato dalla valutazione iniziale arriviamo a redigere il referto della relazione neuropsicologica ovvero diciamo di cosa soffre o non soffre il paziente e come si potrebbe trattare per esempio la comunicazione della diagnosi di demenza come comunichiamo una persona che in base ai nostri risultati ci sono delle difficoltà di questo tipo qua ho citato prima un'astematissima collega che lavora come neuropsicologa presso la neurochirurgia una neurochirurgia qua della provincia non della provincia di Padova ma di Vicenza che è da molti anni che assiste ai neurochirurghi durante le operazioni neurochirurgiche e li assiste ovviamente con la valutazione neuropsicologica ovvero sia in vari procedimenti neurochirurgici e la neuropsicologa che dice al neurochirurgo guardi che quell'area che tocchi per ricevere l'encefalo è importata per una funzione quindi la lassi dov'è? Quell'area che tocchi in quel momento non è importante non è noto cambiamenti del comportamento del paziente quindi se l'area è già infiltrata da un tumore o fa parte di un focolare di epiletogeno non può essere asportata pensate quanto è questo importante saper farlo per un paziente per il paziente le conseguenze sul paziente soprattutto nel passato venivano asportate delle aree importanti quindi un neurochirurgo poteva risolvere un problema e creare 10 adesso lo scopo è di risolvere un problema e di creare alcun nuovo problema su questo ha un ruolo fondamentale nel psicologo clinico se specializzato insomma sottospezializzato a questo abito il trauma cranioencefalico purtroppo è un altro fenomeno che colpisce moltissimi giovani tra l'altro in seguito a un incidente stradale una caduta un incidente dello sport purtroppo è un'aggressione qualcuno può avere un colpo alla testa violento e questo colpo ha conseguenze siccome purtroppo i traumi cranioencefalici nella loro maggioranza avveggono tra i giovani i giovani sono in pieno potenziale accademico scolastico e soprattutto lavorativo quindi come possono essere reinserite queste persone nell'abito sociolavorativo in seguito con un dramma cranioencefalico da quest'anno abbiamo introdotto anche una considerabile parte riguardante la riabilitazione neuropsicologica in generale la neuropsicologia clinica in psichiatria non solo i pazienti neurologici possono avere difficoltà neuropsicologiche lo hanno anche moltissimi se non tutti dei pazienti psichiatrici non immaginate che un paziente con schizofrenia o un paziente con depressione maggiore ha solo le cose incluse nel DSM o in manuali diagnostici simili sono pazienti che hanno gravissime difficoltà anche in vari aspetti delle funzioni cognitive con particolare riferimento alle funzioni esecutive ok questi pazienti indipendentemente dalla causa sia diversa che è diversa da quella dei pazienti neurologici devono essere comunque sottoposti a valutazioni neuropsicologiche e a trattamenti neuropsicologici possiamo vedere un'altra lezione ad esempio in cui si vedono come le neuroimmagini cerebrali sia quelle statiche strutturali sia quelle funzionali le statiche possono essere un attacco per esempio una funzionale possono essere una petola tomografia di emissione di positroni l'attacco vuol dire una tomografia assiale computata non computerizzata mi raccomando sbagliato computata e che come possiamo capire da queste lezioni quali circuiti sono stati colpiti e un eddo l'informazione neuro-radiologica con l'informazione neuropsicologica di base dove sono questi circuiti e cosa fanno dedicati alla memoria all'attenzione alle funzioni esecutive siamo come dicevo prima partorire le prime diagnosi ipotesi prima ipotesi le diagnosi casomai alla fine diagnostiche allora adesso un po' di informazioni di carattere più pratico la data di inizio delle lezioni il 18 novembre del 23 mentre la data di fine lezioni il 5 ottobre del 2024 le lezioni hanno luogo ogni sabato più sette venerdì circa uno al mese a partire da dicembre più una settimana intensiva da lunedì a sabato che avrà luogo durante il mese di giugno 2024 la nostra modalità didattica è quella che viene chiamata blended sarebbe una modalità didattica integrata o mista cosa vuol dire che circa 65% delle lezioni sarà esclusivamente online e il restante 35% delle lezioni soprattutto quelle a carattere più pratico con le certificazioni e così via saranno esclusivamente in presenza la frequenza è obbligatoria quindi perché uno arrivi con successo alla conclusione del master deve aver fatto essere presente e frequentato l'80% delle lezioni ok la sede delle lezioni in presenza è presso le aule della scuola di psicologia che si trova a Padova in via Venezia 12 presso l'edificio Psico 2 durante le lezioni oltre il docente è sempre presente il tutor del nostro master che colgo l'occasione per presentare il dottor Cosmo le serie che diventa un punto di riferimento assoluto importantissimo per i nostri masteristi come ha fatto in tutti questi anni grazie sui materiali didattici ogni docente su un apposito sito su Moodle che abbiamo caricherà di volta in volta tutti i materiali attinenti alle proprie lezioni nonché materiali di approfondimento comunque sia io rimango in qualità di direttore del master disponibile a fornire ulteriori materiali magari più specifici o più vicini ai propri interessi dei masteristi quindi basta una semplice email ci vediamo a volte anche su zoom eccetera approfondiamo insieme anche molti aspetti sia teorici sia pratici quindi qua parliamo possiamo arrivare a centinaia di libri materiali manuali di test e così via allora questa è la parte delle lezioni 300 ore di lezione adesso c'è la parte dello stasio che è il tirocino di 500 ore ok il tirocino deve essere svolto a partire dal mese di dicembre nel 2024 a partire magari uno lo comincia a gennaio o a febbraio ovviamente prima si parte meglio è perché uno ha più tempo per fare le cose con calma e come vedremo più avanti ha anche più tempo per scegliere l'argomento della tesi di master di solito le due cose sono legate uno fa qualcosa di pratico durante lo stas e poi questo pratico seguito ovviamente il masterista da un docente supervisore lo presenta alla fine come la tesi del master abbiamo due tipologie di strutture le strutture che sono già convenzionate che sono decine proprio tantissime di ogni tipo in ogni regione dell'Italia quindi uno può fare il suo master dove vuole farlo in Sardegna in Sicilia nella Basilicata nel Lazio in Emilia Romagna in Lombardia Piemonte abbiamo dappertutto comunque sia se uno un masterista ha un interesse particolare di fare il suo tirozzino presso una struttura che non è ancora convenzionata nulla di più semplice si può creare una convenzione ad hoc e convenzionare nuove strutture c'è un iter procedurale che lo sa la segreteria competente quindi si comincia questo iter e molto facilmente si fa lo STAS lo STAS è inutile dirlo deve essere su qualsiasi argomento della neuropsicologia clinica qualsiasi argomento che ha a che fare con la valutazione di agnosi neuropsicologica da una parte e o la riabilitazione il trattamento neuropsicologico dall'altra parte d'accordo non ci interessano minimamente tirozzini che uno va a studiare semplicemente una funzione questo si occupano altre branche di disciplina della neuropsicologia non si occupa della neuropsicologia clinica questo è un master in neuropsicologia clinica d'accordo quindi il nucleo del master deve essere sulla valutazione la riabilitazione neuropsicologica rimaniamo sempre disponibili a offrire ulteriori consigli dare la nostra opinione sulla struttura da scegliere o su una nuova struttura non sappiamo niente allora la persona si presenta la struttura e noi tagliamo e alla fine diciamo se sembra che è possibile svolgere lì dentro l'attività neuropsicologica allora andiamo avanti con la convenzione altrimenti no anche se formalmente non è necessario che lo stas venga firmato da un da un neuropsicologo clinico può firmare anche i responsabili della struttura ciò non lo sa in stante personalmente vado oltre questa forma come direttore del master e non autorizzo mai master in cui non vedo la presenza come tutor di un neuropsicologo clinico ok di uno psicologo è scritto all'albo che si occupa di neuropsicologia d'accordo siamo arrivati già alla fine finito il master allora c'è la prova finale che è costituita in un elaborato scritto una specie di tesi dall'anno scorso ho limitato gli abiti limitato mi spiegherò meglio a questa tipologia di tesi ho fermato le tesi non empiriche ovvero sia le tesi bibliografiche o le tesi teoriche e così via non siamo un master teorico siamo un master pratico quindi il master il master alla fine deve mostrarci quanto bravi siamo stati nell'insegnamento durante l'anno e come lo fa presentandosi qualcosa che è di pratico empirico ci può essere per esempio l'approfondimento descrizione discussione di un caso clinico paziente con amnesia un paziente con allessia un paziente con aprassia un bambino con dislessia un bambino con sindrome da iperattività disattenzione e iperattività e così via non è importante di solito uno durante il suo stas può vedere uno o più di questi pazienti o di queste persone con difficoltà bambini con difficoltà allora sceglie di seguire da un punto di vista diagnostico e o da un punto di vista riabilitativo un caso e lo presenta uno magari dice guardi che io farò il mio stas in una mega struttura che ha centinaia di posti in letto la struttura mi dà la possibilità di partecipare a uno studio anche ampio con decine di pazienti bene lo studio ampio con decine di pazienti però deve essere in un argomento scusate riguardante la neuropsicologia clinica tipo che abbiamo testato un ampio campione suddiviso in gruppi per verificare l'efficacia di due o più trattamenti neuropsicologici questo va benissimo o uno come il successivo sono in una struttura che si occupa di standardizzare degli strumenti nuovi strumenti per la valutazione strumenti per la riabilitazione va benissimo anche questo d'accordo ma non va benissimo che abbiamo studiato quando si attiva l'area parietale quanto uno fa calcoli questa non è neuropsicologia clinica è neuropsicologia cognitiva e qualcosa altro d'accordo quindi anche la prova finale che di solito sempre è strettamente legata allo stas deve essere un argomento di neuropsicologia clinica non è sempre tutto così chiaro amen contattate me in qualità di direttore del master io vi do il mio feedback su cosa penso su una idea di tesi che costituirà la prova finale d'accordo l'abbiamo fatto ogni anno sicuramente non sarete voi l'eccezione allora alcune scadenze importanti c'è la scadenza per la prescrizione che è il 6 ottobre del 2023 c'è il link tutto quello che diciamo qua è stato come diceva gentilmente prima la dottoressa Pedron registrato e sarà disponibile anche offline la graduatoria verrà pubblicata a partire dal 19 ottobre la scadenza delle istruzioni è il 27 ottobre c'è un piccolo margine per subentri persone che possono essere iscritte anche dopo il 27 ottobre ma non dopo il 10 novembre dopo il 10 novembre non può iscriversi nessuno allora i miei contatti sono il mio nome punto cognome chioccelonipd.it importantissimo contatto quello del tutor dottore Cosmo le serie messo il contatto l'e-mail del nostro master master.neuropsicologia clinica chioccelonipd.it abbiamo due siti web uno gestito dal unipd executive learning o UEL che è questo sito qua trovate molto bello esteticamente scusate l'autopubblicità però se non la faccio io la faccio allora trovate tutte le informazioni sia in maniera riassuntiva accattivante e comprensibile sia in maniera estesa se per esempio il banto qua dentro con informazioni come molto tagliate qua ci sono le domande frequentemente chieste frequently asked questions come organizzata la didattica se ci sono borse di studio purtroppo non ci sono e così via d'accordo qualcuno può chiedere anche una brochure che la può tenere in formato pdf copilato questi campi qua allora l'altro sito è più legato agli aspetti didattici eccetera gran parte delle informazioni sono le stesse fondamentalmente tutte è questo del sito del dipartimento di psicologia generale ma un sito di riferimento secodario questo ormai il nostro sito principale è questo qua quindi tutte le informazioni le trovate qui dentro oltre questo abbiamo anche un sito facebook che professore non si vedono le pagine che condivide quindi magari non si vedono le pagine no perché mi sa che deve interrompere la condivisione delle slide e aprire lo schermo sì allora Lori Fancho immagino che neanche adessi vero no no non mi dà la possibilità di condividere l'intero schermo ma delle schermate specifiche ok quello è zoom queste le vedete adesso per esempio sì queste si vedono però non si vedono i siti niente potenzialmente cliccato su questi collegamenti si aprono i siti i corrispettivi siti fate riferimento al sito principale che è questo qua wellunipd il primo nel sito facebook facciamo ulteriori approfondimenti per esempio essa è una ricerca interessante nell'abito della neuropsicologia clinica la mettiamo la comunichiamo lì può essere un argomento di discussione interessante una di un'intervista di un grato neuropsicologo la condividiamo lì condividiamo tantissimo di materiale multimediale nonché degli articoli eccetera che possono interessanti per i nostri masteristi lo curiamo personalmente il sito ed è aggiornato abbiamo almeno due o tre entrate al mese con argomenti nuovi ricerche nuove sviluppi nuovi di qualsiasi tipo amministrativo organizzativo una decisione importante per la professione di neuropsicologi e così via altri contatti utili sono quelli delle segreterie universitarie c'è l'ufficio dottorato e post laurea all'interno di questo ufficio c'è il settore del master formazione continua che include il master i corsi di perfezionamento su un telefono con gli orari e una email allora ho concluso la nostra parte e sarà un grande piacere ascoltare la vostra opinione le vostre domande osservazioni e così via grazie ora se avete piacere di fare domande potete o intervenire di persona magari se se avete piacere aprite il microfono oppure se non volete intervenire di persona potete scriverlo nella chat io le leggerò e le porterò alla direzione del professore ottimo sì io avrei una domanda volentieri mi chiedevo se il tirocino in questione di 500 ore dovesse essere concluso prima entro la fine delle lezioni anzi in realtà due domande e la seconda è qual è il tempo che passa tra la fine delle lezioni e la prova finale d'accordo Cosimo vuoi rispondere tu allora sì il tirocino deve concludersi necessariamente prima della fine della conclusione del master quindi diciamo di pari passo con la fine delle lezioni ecco e il di solito passano due settimane dall'ultimo giorno di lezione alla discussione della tesi quindi la data che vi abbiamo presentato prima quella di ottobre in realtà sarebbe il giorno della discussione della discussione tesi ok perfetto grazie mille niente quindi costruisco su questo argomento e la tesi va concordata con il relatore è cominciata molto prima quindi già dopo le prime settimane del tirocino uno deve cominciare a ragionare a un argomento di tesi e concordarlo con un relatore il relatore può essere qualsiasi persona che è un docente del master in modo tale che progressivamente il relatore riceve i capitoli della tesi per esempio i capitoli teorici li può ricevere anche molto prima dell'inizio dell'osservazione empirica se io voglio studiare per esempio una specie uno sottotipo di afasia allora cos'è questo sottotipo dell'afasia eccetera che il primo capitolo teorico lo comincio a scrivere prima quindi tutta la tesi eccetera deve essere conclusa prima infatti la consegna della tesi per esempio per quest'anno è il 15 settembre questo venerdì qualcosa di simile sarà anche per l'anno prossimo però è molto molto importante e su questo ovviamente vi assistiamo anche noi che argomento struttura della tesi comincia molto molto prima già durante le prime settimane del tirozione in modo tale che abbiamo tutto il tempo per riflettere soprattutto voi con il vostro relatore e poi io in secondo luogo do le mie opinioni in qualità di direttore per garantire un'ottima tesi alla fine una tesi sensata che contribuisce alla vostra formazione per esempio non consideravo che contribuiva alla tesi alla propria formazione una tesi in un argomento teorico dopo che descrivo questo cosa è un'amnesia questo lo dicono almeno un milione di testi testi scusate e manuali lo scopo è cosa abbiamo noi capito dell'amnesia come la possiamo diagnosticare come la possiamo trattare e così via questo è stato il motivo per cui abbiamo deciso di non ammettere più tesi teoriche bibliografiche nel nostro master altre domande o osservazioni o curiosità qualsiasi cosa c'è una domanda in chat che è arrivata direttamente a me ma può interessare a tutti e chiedono di spiegare se è possibile spiegare meglio il discorso dei subentri che può accedervi e su che base va bene dottor le serie allora sicuramente ci sarà una graduatoria per cui i primi 22 le prime 22 persone potranno perfezionare l'iscrizione e magari se c'è qualche qualcuno che viene meno allora c'è la possibilità poi di ripescare altre persone e quindi si dà una settimana in più di tempo per i subentri in questo senso anche io avrei una domanda volevo chiedere volevo chiedere se la struttura per lo stage può essere sia pubblica che privata assolutamente sì sì grazie basta che sia convenzionata o da convenzionare basta che ci sia già una convenzione o se si fa convenzione ci sono diverse strutture private come ci sono diverse strutture pubbliche se sono convenzionate nessun problema quindi non abbiamo mai distinto tra strutture private pubbliche sì sì grazie a lei grazie mille c'è un'altra domanda in chat dove vengono richiesti i criteri con cui viene stilata la graduatoria sì i criteri sono riportati sì sono riportati all'interno del bando all'interno del bando sono molto molto dettagliati ci sono le informazioni nel bando che dicono per esempio come vengono valutate titoli come pubblicazione altre attività la tesi e così via grossolanamente più attività pubblicazioni corsi relati alla neuropsicologia clinica uno ha già fatto più alto è il suo punteggio nel bando comunque ci sono le percentuali molto specifiche la suddivisione delle parti e quanti punti arrivano a ogni parte che riguarda questi titoli il bando ovviamente il moto più facile per trovarlo è tramite il sito del nostro master date nel sito del nostro master quello è il primo WL e lì dentro trovate facilmente il bando io approfitto finché non vedo intervenire nessuno c'è un'altra domanda Simone chiede specifica che da ottobre svolgerà il tirocino post lauream in due enti in ambito neuropsicologico per un totale di 750 ore chiede se può essere considerato come stagio per il master sì 500 di queste 750 ore possono essere considerate come stagio del master quindi il tirocino post lauream professionalizzante è compatibile con lo stagio per il nostro master in neuropsicologia clinica ok chiedono anche se in merito al tirocino se verrà anche data una lista degli enti già convenzionati allora c'è la lista completa e la gestis è la competente segreteria degli stagio esiste una segreteria competente degli stagio e lì c'è la lista completa se uno ha ulteriori curiosità oltre la lista che trova nella segreteria stagio basta che ci contate un'altra domanda allora Elisa chiede se nel caso ci si laurei a novembre se ci si può iscrivere al master in ogni caso allora Cosimo era allora se entro il 10 forse sì si riesce ad essere ripescato in qualche modo è una delle ipotesi di subentere questa alcuni dei subentri sono persone che non hanno normalizzato la loro laurea non si sono laureate al momento in cui chiudono ufficialmente le iscrizioni per queste persone se si laureano almeno entro il 10 novembre ci sarebbero delle modalità per farle entrare come subentri però non dopo il 10 novembre c'è un'altra domanda stanno scrivendo tutti quindi nel frattempo leggo allora Wendy chiede visto il numero limitato di posti è capitato che siano entrati in graduatoria studenti senza un curriculum prettamente neuropsicologico ad esempio con una magistrale in psicologia clinica data che Wendy nel frattempo era uscita la ripeschiamo che sta entrando sì sì diciamo che è un po' a rischio però se non ci sono altri candidati che hanno un curriculum più neuropsicologico eccetera comunque la persona è motivata a intraprendere questo percorso è benvenuta il problema è se ci sono altri candidati che hanno già un curriculum neuropsicologico lì ovviamente dobbiamo fare l'asselto e se un master di secondo livello per definizione non è una cosa per principianti di partenza in questo caso verranno attribuiti i punti e verranno privilegiate le persone che hanno un curriculum già compatibile con questo master c'è una domanda relativa al calendario Federico chiede se il calendario delle lezioni online può essere specificato meglio ovvero il 65% a quanti incontri circa monterebbe Cosimo dottor Leseri allora personalmente non li ho mai contati 100% supponiamo sono 300 ore se le 100 ore il 65% sono 65 ore per 3 facciamo circa 195 ore online e il resto in presenza sarà questa la domanda circa calendario non può essere al momento specificato ulteriormente perché per migliorare la qualità del master ogni anno siamo in continue trattative con i nuovi docenti con i vecchi docenti stiamo elaborato come migliorare tutto eccetera quindi il calendario specifico quale giorno avrà qualche lezione verrà comunicato sicuramente prima dell'inizio delle lezioni con un ottimo anticipo in modo tale che coloro che spero siate numerosi vorrete intraprendere questo percorso potete organizzare le vostre attività con particolare riferimento ai viaggi per coloro che vengono da lontano per quanto riguarda le lezioni in presenza c'è un'altra domanda Alice chiede se è possibile avere una lista dei docenti che terranno i corsi allora allora sì su uno dei due siti dovrebbe essere pubblicata la lista dei docenti credo che sia quello del dipartimento forse esatto sì del sito del dipartimento e dei docenti dell'anno scorso diciamo che la maggioranza dei docenti sono questi a qualcuno possono essere ampliati delle ore nuovi docenti in assoluto quest'anno non abbiamo abbiamo riorganizzato un po' la didattica di alcuni docenti precedenti c'è un'altra domanda un po' più specifica allora Gianni chiede avrei gentilmente una domanda legata all'ambito lavorativo futuro da ciò che sa l'accesso alle strutture pubbliche ad esempio ospedali e ULS è riservato principalmente ai professionisti in possesso dei titoli della scuola di specializzazione chiede se è ancora così oppure se con il titolo del master sia possibile comunque lavorare nel pubblico senza difficoltà è una domanda alla quale purtroppo non ho una risposta netta allora perché uno venga assunto a tempo indeterminato nel pubblico come dirigente psicologo è obbligatore la scuola di specializzazione qualsiasi scuola di specializzazione quindi non ne ho almeno non ho io conoscenza di bandi specifici in cui hanno specificato che uno deve essere specializzato in neuropsicologia è necessaria una qualsiasi scuola di specializzazione in neuropsicologia per i posti però a tempo determinato una collaborazione di lavoro per due anni una borsa di un anno eccetera ci sono e li ho visti diversi di questi bandi in cui il titolo sufficiente è quello di un master appunto un master in neuropsicologia clinica quindi questa è l'unica cosa che ho sicuramente non c'è alcuna possibilità che uno si presenti a un banto per un posto di dirigente psicologo quindi un posto a tempo indeterminato sia nella sanità pubblica sia in quella privata solo con il titolo del master verrà escluso già dai titoli è obbligatorio avere la scuola di specializzazione in neuropsicologia in una scuola di specializzazione mi autocorrego come ho detto prima che sia adesso in psicologia clinica cognitivo comportamentale o che sia in psicologia della salute in psicologia della neuropsicologia non vanno fatta distinzione al momento altre domande in chat non ci sono altre domande non so se qualcun altro dal vivo qualcuno dal vivo che vorrebbe intervenire allora costruisco un po' sulla domanda della persona sull'elenco dei docenti allora permesso a fare che l'elenco lo potete trovare nel sito del nostro master presso il dipartimento di psicologia generale e posso dire una cosa molto generale una delle particolarità del nostro master è che circa metà di docenti sono docenti che sono anche accademici l'altra circa metà sono di professionisti ok perché uno ci può dire questo master cosa ci dà di più rispetto ai contenuti dei corsi di laurea sicuramente c'è un po' di sovrapposizione come esiste in qualsiasi anche in un dottorato di ricerca c'è un po' di sovrapposizione con quello che ha studiato nei corsi di laurea il nostro scopo è quello di dare però anche delle conoscenze non trovabili facilmente né su internet perché uno va in internet non va a fare il nostro master né sui corsi di laurea così via quali sono queste conoscenze le conoscenze sviluppate da questi professionalisti che sono di ottimo livello che hanno un'esperienza di 20 o qualcuno di 30 anni sono persone che lavorano presso ospedali centri per l'Alzheimer e le altre demenze unità di neuro-riabilitazione abilatori territoriali hanno sviluppato un'esperienza enorme quindi questo secco da me il punto di massima forza del nostro master questa combinazione di docenti che ci permette di coprire sia gli aspetti più teorici però come diceva qualcuno di famoso è nulla di più pratico di una buona teoria che però sia di aspetti puramente pratici eccetera infatti almeno le lezioni più pratiche quelle più con presenza di più esercitazione ma consistono nel vedere video di pazienti veri e propri analizzarli sotto la guida di questi eccellenti posso dire professionisti do per scontato che l'elenco preciso e specifico di tutti i professionisti nonché gli orari eccetera avrà comunicato nella parte forma sua definitiva all'inizio delle lezioni però ripeto queste informazioni nei due siti del master sono già presenti potete dare già un'occhiata lì di sicuro insegnerò io il quale già del direttore qualche ora la fa qualche altra osservazione o curiosità non vedo neanche nella chat qualcosa di nuovo se volete posso ricollegarmi un attimo al discorso sulle lezioni in presenza e quelle online come sono distribuite durante l'anno allora stiamo organizzando il calendario affinché ci siano tre weekend al mese di cui uno almeno è in presenza ecco quindi rispondendo integrando un po' la risposta che avevamo dato alla persona che aveva chiesto prima per cui si iniziano le lezioni a novembre e andiamo avanti fino a settembre con una pausa estiva da metà luglio circa fino a fine agosto ecco in più c'è anche la settimana intensiva di giugno e quella sarà esclusivamente in presenza appunto questa settimana come dicevamo prima che vada lunedì al sabato incluso diciamo è la parte forse più rappresentata dalle esercitazioni dato che potenzialmente tutti possono venire in presenza eccetera senza difficoltà allora concentriamo in quella settimana non tutto ovviamente però gran parte delle esercitazioni avviene anche lì poi mi raccomando siamo sempre aperti uno ha delle curiosità può contattare i docenti può contattare direttamente a me o di qualsiasi curiosità sia di natura teorica che sia di natura empirica tipo un paziente che vede una difficoltà interpretativa un punto non chiaro sulla somministrazione di un test neuropsicologico un aspetto complicato sulla riabilitazione di un paziente difficile siamo sempre qui qualche altra osservazione allora dicevo che ci sarà anche un altro momento il 20 settembre dalle ore 17 sarà la possibilità di organizzare anche incontri personalizzati d'accordo le modalità le descrizioni sì ok allora il 20 di settembre io ho condiviso spero vedete la slide c'è la possibilità di fare appunto un incontro individuale alle 17 le modalità che vi chiedo sono di mandare una mail a formazionicaccelonismart.it adesso magari ve la inserisco in chat dove mi indicate il nome cognome e il master di interesse in modo tale che noi lo calendarizziamo e vi mandiamo il link zoom se qualcuno desidera incontrarsi personalmente per aspetti un po' che non vuole condividere con un'altra persona che vuole approfondire con noi quella sarà l'occasione il 20 scusate il 20 settembre alle 17 io adesso faccio un piccolo recap ma poi chiudo la condivisione e la metto in chat il ricordo appunto la scadenza delle preiscrizioni il venerdì 6 ottobre alle 12.30 la procedura è abbastanza intuitiva però è un po' lunga quindi quello che noi consigliamo è magari di prendersi per tempo e caricare magari qualche ora prima o qualche giorno prima in modo tale da non arrivare all'ultimo il sito web del master dove ci saranno potete scaricare la brochure e dove verrà messa a disposizione il link con la registrazione dell'incontro e le slide e appunto il colloquio individuale mercoledì interrompo la condivisione e vi metto in chat il sito e anche la mail ok trovate tutto nella chat ecco affermazione pioccolonismart.it perfetto esatto anche il sito che si trovate sì nel sito c'è anche un tasto dove il tasto preiscriviti dove vi rimanda anche la procedura guidata per la preiscrizione quindi se avete dubbi anche lì passo passo è indicata proprio tutta la modalità di preiscrizione un ultimo consiglio se per qualsiasi motivo volete chiederci ulteriori informazioni vi consiglio coltamente di non usare il telefono ma la e-mail purtroppo ci spostiamo continuamente tra laboratori cliniche lezioni e così via quindi il numero di telefono corrisponde al mio ufficio nel mio ufficio ci sono e non ci sono mentre la e-mail la vedo sia io sia il dottor le serie continuamente possiamo rispondere facilmente d'accordo la e-mail è quella che trovate nelle slide master.neuropsicologia clinica chioczolaunipd.it va bene se non ci sono altre domande o curiosità spero di vedervi presto se non vi vedo vi auguro buona continuazione delle vostre attività se vi vedo ci vediamo allora al master d'accordo vi saluto grazie ancora grazie ringrazio tutti manteremo una mail non appena il link verrà messo online della registrazione grazie a tutti grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti